Musica Ragazzi se anche voi volete supportarmi nello shop creatore Ovviamente come codici creatore Non lo ricordo mai perchè comunque non è che sia una cosa molto e molto importante Il mio codici creatore è righe Semplicissimo basta inserirlo così Oppure addirittura maiuscolo la stessa roba Oppure con la R maiuscola Anche maiuscolo vale uguale Schiacciata eccetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto che sia su salva al mondo oppure battaglia reale E niente detto questo buona visione E bella a tutti ragazzi Quarichi che vi parla e oggi siamo con un video particolare Vi dico subito anche il perchè Innanzitutto siamo nella nuova base dove andremo in ogni caso a fare gli scambi Abbiamo già diviso molte zone che ci serviranno sia a me che allo staff E allo stesso tempo l'abbiamo un po' abbellita Ora sta un po' diciamo In gioco partiamo subito dal presupposto che le armi legacy in sé per sé sono rare E sono rare il quanto molto più dell'arma normale stessa Quindi se voi avete questo Queste qua sono esempi di armi Che ad esempio domani andremo a scambiare insieme A voi ovviamente Ecco armi tipo queste Che sono legacy E armi tipo Facendo esempio Della stessa tipologia Che però sono con l'elemento e full perk Quale vale di più tra una e l'altra? Allora Ognuna ha un suo vantaggio Cioè una è da utilizzare L'altra purtroppo non si può utilizzare Allo stesso tempo però Una è più rara perchè è comunque rara Perchè è vecchia È proprio vecchia Ora l'esempio non ce l'ho qui davanti a voi Però comunque capite che Se avete una legacy Oppure una normale full perk Quella normale al 130 Potrà valervi una cinquantina di raggio Ma se quella legacy ce l'avete Al massimo comunque di potenza Normale Ecco non proprio 144 Ci sta lo stesso Perchè? Perchè a differenza comunque di quella normale Può stare anche sui 200 di raggio E a un collezionista potrebbe interessare Tipo in questo caso 200-250 di raggio Ok? Questa è legacy fuoco Ma c'è una distinzione tra le armi legacy Infatti esistono armi legacy normali Armi legacy ricombussolate Come questa Mancante di due perk Addirittura gli manca l'elemento E ragazzi Altre armi legacy Esistono Di tipologia ad esempio Le ultime adesso uscite di armi legacy Proprio recenti Strano da dire Ma le recenti legacy Potrebbero essere quelle senza perk Perchè ora dentro le ceste Non le trovate più senza perk Ma almeno le trovate con i perk Full perk o non full perk Ma le trovate comunque Percate le armi dentro le storm Dentro le casse Ok? Però non le ripetiamo legacy per ora Le lasciamo lì Infatti Non è che dopo questo video Andate a cercarvi le armi senza livello Cioè senza livello Quelle ci stanno Perché sono senza livello E sono particolari Come queste Sono anche loro vecchie armi Vedete Gli manca livello Poi ci faremo un video su queste Specialmente su quelle fondatore Ma proprio in generale Le armi senza perk Non andate a ricercarle adesso Lasciate un po' di tempo Poi quando sarà il momento Comunque lo andremo a dire Comunque In ogni caso La differenza sta Anche comunque In un'altra Un'altra differenza Oltre a quelle ricombussolate E oltre a quelle Che vi ho detto adesso E oltre a quelle comunque Legacy in generale Esistono le legacy Con elementi Che non possono avere Anche volendo Non possono averli Ma esistono Esistono Ai tempi si poteva Fare ecco Ai tempi si potevano avere Ma adesso non più Perché hanno dato Dei elementi Comunque Unici A diverse armi Facciamo degli esempi Partiamo subito Dalle armi Ad esempio Come questa L'Apocalisse Ne abbiamo parecchie Come in questo caso Guardate Ne abbiamo un sacco Abbiamo una tora Abbiamo fuoco Diverse Tutte della collezione sono Ma l'elemento di quest'arma È l'energia Quest'arma nasce come energetica E a differenza di un'arma Legacy normale Ha la stessa potenza Ma con l'elemento Tipo energia Andrà sicuramente A valere Di più Questa qui Non la stessa arma Scusatevi Non per forza la stessa arma Ma ha sempre un'arma Legacy Ha la stessa potenza E ha lo stesso Tipo elemento Un'arma che può avere Un'arma che può avere L'atura Ecco Lei non può averla E vale automaticamente Di più Perché è un elemento Che non può avere Ma ce l'ha Non è una cosa così Ecco Enorme di valore Che può essere Questa qua Che vale 300 di raggio A differenza di una normale Sempre la stessa potenza Eccetera Che ne vale 200 Comunque sempre 100 di raggio In più Immaginatevi con armi Che ne valgono Cioè che Comunque sono molto più rare Molto più ricercate E di potenza maggiore Addirittura ovviamente di vita Perché queste ad esempio Sono un po' rotte Ecco Avete capito il senso E quali esistono Di tipologie Apocalissi Poi esistono Falciatrici Perché esistono Falciatrici in natura Fuoco Vabbè Noi ce le abbiamo tutte Andiamo nel deposito Infatti come potete ben vedere Questa è Ah Ovviamente Se voi la guardate così Sembra che c'è pure il fuoco Con l'energia Invece no ragazzi Mi raccomando Non confondetevi Quest'arma È solo Quell'arma Cioè È solo L'elemento Che c'è dentro La scheda tecnica Dell'arma Che è quello Dell'arma Non so se mi sono inteso Non è che si vede fuoco Quello è un Come si dice Un'animazione Come ce l'ha pure l'arma Che ne so Tipo la Masamune Vedete che c'è il fuoco Ma non è Legacy Se è Legacy Si vede proprio il fuoco Questa è proprio un'animazione Capito ragazzi Quindi le falciatrici Esistono Esistono Ah La ma tempesta ovviamente La ma tempesta natura Vedete Non è doppio elemento Molto tempo fa La gente le scambiava per doppio elemento Oppure gli veniva detto Ma sono solo Natura E In questo caso Vabbè Senza elemento Però in realtà Dovrebbe avercelo In fondo Non è ancora sbloccato Questa qui Guardate Questa qui Legacy Si vede l'energia Invece a differenza questa Non si vede Perché non è ancora sbloccato Capito? Quindi abbiamo Lama tempesta Abbiamo pure Orgogli contadini Non possono essere Fuoco Possono essere solo energia Questo vale anche ovviamente Per il lama tempesta Spero abbiate intuito Capito ragazzi Ci sono veramente un sacco di armi Che possono E non possono avere elementi Questo qua Questo qui Può essere solo ed esclusivamente Energia E non si deve vedere l'elemento Come in questo caso Ma questo non ha l'elemento Gli ne manca uno E chissà che elemento era Guardate nel deposito Abbiamo Dei raggio morte Ecco Questa è un'altra arma Quella che vi ho fatto vedere adesso Viola Abbiamo fuoco Natura Acqua Energia E senza elemento Ce l'abbiamo proprio tutti Poi cosa abbiamo? Ah Le Space Invader Senza elemento Acqua Ce l'abbiamo pure fuoco Quella può essere solo energia Ragazzi Quindi queste armi Automaticamente Valgono Nettamente E molto di più Di quelle Normali Un 100 di raggio in più Ad esempio Se il rapporto è Tipo che un'arma normale Dalla stessa potenza Di 200 250 Quella comunque Comunque Di queste Di queste categorie Sui 300 350 Per quello in live Anche le scambio per quel prezzo Capito? Perché è proprio il loro Standard Non si è mai abbassato Non è mai sceso Non si è mai alzato Se proprio devono alzarsi Queste armi Devono sparire le armi Ma date Una cosa impossibile Che non accadrà mai Guardate Orgoglio contadino Energia legacy Però questa è già Molto simile a una normale Però è sempre rara Sempre rara Gli zapatron ragazzi Le bang bang Possono essere solo energia Capito ragazzi Ce ne ho un'infinità Guardate Anche gli zapatron Tra tutti quanti Gli zapatron esistenti Quell'energia Stranamente È quello più raro Anche se è il suo elemento Perché è il più raro? Perché è un elemento Che la gente non va a cercare E se comunque Viene ottenuto Ovviamente Non va utilizzato Infatti questo qui Non lo andrò mai ad utilizzare Neanche volendo Rimane così Molto carine Sono ovviamente queste qui Entrambe scambiate In live Questa grazie mille Comunque al mio iscritto Che me l'ha scambiata Questa invece me l'ha scambiata Cioè me l'ha portata Edo tramite uno scambio Che è qui con noi YouTube Edo Che ripeto Il nostro Comunque middleman Allo stesso tempo Helper Che ci aiuta Nella base E negli scambi Io ragazzi Con questo video Spero di avervi comunque Aiutato un po' A capire anche Le armi In generale Quali sono rare Quali no Eccetera E Adesso non so Cosa stanno facendo Però Capito raga Ci sono molte differenze Ce ne sono ben tre Più una bonus Che però Non è ancora un'arma legacy Cioè quelle senza Senza niente Mi raccomando Spero di avervi dato Veramente supporto Anche durante gli scambi Spero che abbiate capito Un po' come funziona Ci vediamo come sempre Live stasera Ore 21 Mettete la campanella Iscrivetevi Manca veramente poco I 24.000 Sembra irraggiungibile Ma è dietro L'angolo Sto obiettivo ragazzi Dai Veramente ci tengo tanto Ad arrivarci Sperando ovviamente Entro fino a mese E niente Qui d'arighi tutto Bella raga E ovviamente Grazie della visione Grazie di cuore a tutti quanti Del supporto dato In questi ultimi giorni